Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno svolto una vasta operazione con modalità alto impatto all'interno del Parco Verde di Caivano, Napoli e nelle località limitrofe dove sono state effettuate decine di perquisizioni. Al termine delle predette attività sono stati rinvenuti e sequestrati sostanze stuprofacenti del tipo cocaina e hashish, armi a relativo munizionamento, denaro contante, nonché impianti di videosorveglianza con telecamere poste a vigilanza di locali ed aree esterne. Sono stati effettuati controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale e digetico-sanitaria dei vari immobili ubicati. In particolare sono state identificate 79 persone, controllati 149 veicoli di cui 12 sequestrati, sanzionato amministrativamente il titolare di un bar per mancata esposizione della tabella orari ed altresì contestate 46 violazioni del codice della strada. Da ultimo ha avuto inizio l'attività di censimento dei circa 700 appartamenti del parco al fine di accertare la regolare occupazione degli stessi. Le operazioni rappresentano ancora una volta la presenza dello Stato in quei territori caratterizzati da un forte disagio. L'attività in questione è tra l'altro sintomatica di un piano strategico caratterizzato da interventi cadenzati e strutturati volti a riaffermare i principi di legalità. Per questo alto impatto sono stati impiegati oltre 400 operatori delle diverse forze dell'ordine, inclusi i reparti specializzati come la polizia scientifica, la polizia stradale, il reparto prevenzione crimine, l'unità cinofile antidroga della Polizia dello Stato, il nucleo cinofile antidroga e per la ricerca di armi dei carabinieri, l'unità cinofile antidroga e antiterrorismo della Guardia di Finanza, i reparti del gruppo di Castello di Cisterna, l'essio del reggimento Campania, le api del gruppo di Napoli, il gruppo di fratta maggiore nonché i reparti ATP del gruppo pronto impiego di Napoli, di Giuliano in Campania, di Torre Annunziata, della Guardia di Finanza, coadiuvati dalla Polizia Metropolitana di Napoli e dai Vigili del Fuoco. Le operazioni sono state controllate dall'alto dagli elicotteri del reparto volo della Polizia di Stato e della sezione aerea della Guardia di Finanza.